Ciao a tutti da Bergamo Nero Blu e benvenuti a questo post Chievo Atalanta 1-1 a 4 ultima giornata del Gione di Andata e prima giornata di questo nuovo 2017 si apre in una maniera anche meravigliosa anche perché noi abbiamo vinto per 4-1 in quel di Chievo campo che non sempre abbiamo ottenuto risultato anzi spesso e volentieri siamo arrivati a casa con 0 punti partita dominata, anzi stradominata da parte della nostra squadra dopo 45 minuti eravamo in vantaggio per 3-0 un po' come a Sassuolo loro, o meglio noi di grandi pericoli durante tutta la partita non ne abbiamo corsi anche se un po' di titumanza sul 3-1 per quanto riguarda Beriscia però qui se ci fosse stato in porta Sportiello anche perché secondo me Beriscia non dico che abbia fatto una palla però comunque secondo me quella palla lì poteva prenderla ripeto se ci fosse stato magari in porta Sportiello l'avremmo subito criticato tutti perché ci in porta Beriscia quasi nessuno dice nulla anche perché insomma Beriscia nelle altre partite ci ha quantomeno salvato spesso e volentieri anche il risultato con le sue parate detto ciò comunque sul 3-1 comunque il Chievo è uscito un pochettino dalla sua area ha anche sfiorato il gol anzi o meglio l'ha fatto Mera in fuorigioco ma dopo subito il loro gol abbiamo chiuso definitivamente la partita se non sbaglio con Fleurer per il definitivo 4-1 migliore in campo è Gomez che comunque ha anche segnato anche se ha segnato anche i vari conti e Fleurer anche se uno dei tanti migliori comunque è anche Petagne vedo che un attaccante dovrebbe cercare il gol e lui finora ne ha fatti solo solamente 3 però è comunque uno che tiene sulla squadra che la spinge a cercare di costruire un'azione quindi un buonissimo lavoro anche da parte di Petagne anche se i suoi gol magari servirebbero anche se comunque non segna lui ma comunque cerca di far segnare gli arti per esempio Gomez, per esempio Kurtic e anche in certe circostanze anche Masiello arriviamo a 35 punti ormai salvezza quasi acquisita sulla carta ne mancano solamente 4 siamo adesso, sbaglio, siamo quinti o sesti in classifica tutti sogniamo di andare in Europa io magari andrò un po' fuori dagli schemi però dico piedi per terra mancano 5 punti alla quota 40 raggiunti i 40 punti possiamo ambire ad altri un record che potremmo battere sarebbe per esempio il record di punti 50 nell'era con l'Antuono magari con questa squadra magari anche farne 55-56 penso che sia alla nostra portata peccato che è un po' mi dispiace che non sono andato a Verona comunque un complimenti ai 1100 bergamaschi città e anche nelle varie vale che sono partite al seguito della nostra squadra insomma una bellissima prima partita del 2017 prossima partita riguarderà la Coppa Italia come sapete tutti i mercoledì diretta su Rai 1 alle 20.45 allo Juventus Stadium di Torino per Juventus Atalanta gara secca di ottavi di finale il pronostico è favorevole ormai alla Juve molto probabilmente usciremo subito anche perché abbiamo detto è gara secca speriamo comunque di fare una bella partita non come quella magari successa a metà dicembre che comunque abbiamo regalato mezz'ora della partita alla Juventus questo è tutto grazie per avermi ascoltato un forza tanto sempre e comunque ciao a tutti da Bergamo Nero Blu ciao a tutti da Bergamo Nero Blu e benvenuti a questo post Chievo Atalanta 1-1-4 ultima giornata del Gione di Andata e prima giornata di questo nuovo 2017 si apre in una maniera anche meravigliosa quanto anche perché noi abbiamo vinto per 4-1 in quel di Chievo campo che